La riforma della buona scuola, quali sono le misure predisposte per arginare il fenomeno della dispersione scolastica affinché non diventi un allarme sociale di tutta la collettività? Ma ci sono intanto molte più risorse del passato, sia risorse umane che risorse economiche che potranno consentire a tutti gli istituti in autonomia di mettere in campo una serie di attività contro la dispersione scolastica. Accanto a quello ci sono tutte le risorse comunitarie, i fondi PON, che anche lì su proposte dirette da parte degli istituti scolastici possono servire per mettere in campo azioni positive. Naturalmente la cosa che va fatta è poi monitorare la reale rispondenza, gli interventi che si fanno nelle scuole con una crescita del territorio circostante. Poi c'è il grande strumento dell'alternanza scuola-lavoro che abbiamo introdotto in questa riforma che darà la possibilità agli studenti e alle studentesse di avere un rapporto al mondo del lavoro già nel momento in cui ci si forma. Per cui ci sono molte armi contro la dispersione e si tratta di utilizzarle bene. A proposito del concorso per l'insegnamento, a dicembre sarà bandito per tutte le regioni e anche per quelle che non hanno ancora esaurito le graduatorie? Ci sono migliaia di precari? Assolutamente sì. Noi partiremo nel fare il concorso rispetto al fabbisogno che ci hanno detto le scuole. Per cui le scuole hanno chiesto di che tipo di insegnanti hanno bisogno e noi bandiremo concorsi per le classi di concorso che le scuole ci hanno indicate. È un fenomeno che può trasformarsi, se non arginato, in una emergenza sociale? Sicuramente. Devo dire che è un fenomeno che purtroppo al sud ancora ha dei picchi notevoli. Ma ho parlato adesso con la preside, qui hanno fatto già un lavoro egregio, hanno ottenuto degli ottimi risultati. Qual è il confine tra la dispersione scolastica e i primi fenomeni di devianza? Beh, è un confine molto labile. Devo dire che appunto la scuola è un'importante e insostituibile argine anche contro la criminalità. Quindi va aiutata, infatti va incoraggiata e noi tutti istituzioni siamo sempre molto presenti laddove ci chiedono anche per contribuire con le nostre esperienze e anche con il nostro apporto per andare avanti in questo senso.